Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar organizzato da Unich. Oggi parleremo di agevolazioni fiscali. Abbiamo come ospite il dottor Stefano Ciacciarelli, direttore generale del gruppo del Barba, che abbiamo invitato per parlare di agevolazioni fiscali. Il webinar introdurrà innanzitutto l'argomento relativo al PNRR, il Plano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi dei relativi obiettivi e degli strumenti a disposizione. Dopodiché il dottor Ciacciarelli parlerà anche delle misure come il credito d'imposta sui beni strumentali, come il credito d'imposta su ricerca e sviluppo, tutti strumenti che mirano a incentivare gli investimenti nel nostro settore. Dedicherà anche uno spazio alla nuova Sabatini, uno strumento già consolidato, e dopodiché è a disposizione per rispondere a tutti i dubbi e le domande che vorrete porgli. Io vi ricordo che questo appunto è un webinar, di conseguenza potete interagire con noi attraverso i pulsanti che stanno in basso della maschera di Zoom, in particolare se volete fare delle domande, il tasto è quello relativo a domande e risposte. Come accennato prima risponderemo alla fine dell'esposizione da parte del dottor Ciacciarelli e detto questo mi taccio e passo la parola a lei. Grazie e buon webinar. Sì, grazie Luca, la ringrazio dell'apertura della presentazione e come abbiamo già anticipato oggi andremo ad analizzare tutta una serie di misure che hanno come dire una sorta di taglio specifico su quelle che sono le imprese pertinenti all'associazione. Quindi faremo un'analisi innanzitutto preliminare su quelle che sono le misure oggi e gli argomenti che verranno trattati nel PNRR per poi scendere ad analizzare due misure specifiche volte a investimenti materiali da parte delle imprese, in particolare settore produttivo, logistica, quindi investimenti pertinenti ai vostri associati e poi andremo ad analizzare anche quella che è la normativa del credito d'imposta ricerca e sviluppo che sicuramente anche lei è pertinente alle attività che vengono svolte. Per chi non mi conosce, io rappresento la direzione generale del gruppo del Barba. La nostra società è una società di consulenza che opera da molti anni, da oltre vent'anni, nel settore della finanza agevolata, cercando di aiutare le imprese nel proprio percorso di crescita utilizzando l'insieme delle agevolazioni e dei contributi pubblici che vengono costantemente emanati appunto per supportare la competitività delle imprese italiane. Il gruppo del Barba è stato premiato dal Sole 24 Ore da Statista come leader per la crescita sia per il 2020 che per il 2021 e anche dal Financial Times come una delle aziende europee più performanti. Scenderei subito negli argomenti, come dire, caldi del webinar dopo questa brevissima presentazione per andare ad analizzare le misure che abbiamo inserito all'interno del webinar. Gli argomenti saranno quattro, l'apertura è dedicata sicuramente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ultimamente, come dire, è un argomento di discussione quotidiano per poi andare ad analizzare alcune misure specifiche pertinenti al vostro settore merceologico. Partiamo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Allora, innanzitutto, questo famoso piano, il PNRR, nasce grazie alle risorse che sono state messe a disposizione dal Next Generation EU. Il Next Generation nasce con l'intento di sostenere la ripresa economica di tutti gli stati membri dell'Unione Europea che sono stati colpiti dalla pandemia, dal Covid-19, quindi in particolare, come dire, da quello che si è verificato dall'anno scorso. Sono state stanziate molte risorse economiche perché il piano prevede 750 miliardi di euro, quindi è uno stanziamento, credo, il più imponente nella storia dell'Unione Europea per cercare, come dire, di sostenere quindi la ripresa economica degli stati membri. L'Unione Europea ha chiesto, quindi, ad ogni Stato di cercare di creare un proprio piano nazionale di ripresa e resilienza, da cui nasce proprio il nome PNRR, la sigla che poi abbrevia il concetto di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di individuare che cosa? Tutti quegli investimenti che saranno sostenuti tramite le risorse derivanti dal Next Generation. Quindi ogni Stato membro, come dire, ha creato un proprio piano nazionale. La componente primaria del PNRR è il cosiddetto dispositivo di ripresa e resilienza, al quale, diciamo che è stata destinata una somma importante pari a 191,50 miliardi di euro, di cui una parte, circa 70 miliardi, è a fondo perluto, i rimanenti 122, quasi 123 miliardi sotto forma di finanziamenti, finanziamenti prevalentemente a dei tassi agevolati. A questo ammontare, quindi a questi famosi 191 miliardi, si aggiungono 13 miliardi che provengono dal REAC e quasi 31 miliardi dal fondo complementare. Questo per dire che cosa? Che alla fine le risorse, la totalità di queste risorse, arriva a 235 miliardi di euro. Quindi una cifra sicuramente importante. Questo PNRR si articola sostanzialmente in sei missioni. Abbiamo la missione 1, che è la digitalizzazione, l'innovazione, la competitività, la cultura e il turismo. La missione 2, che è rivolta alla cosiddetta rivoluzione verde e transizione ecologica. La missione 3, infrastrutture per una mobilità sostenibile. La missione 4, istruzione e ricerca. La 5, è rivolta alla coesione e all'inclusione. La 6, al mondo della salute. Ogni missione a sua volta è articolata in una serie di componenti. In totale abbiamo 16 componenti. Andiamo a vedere quelle che sono, come dire, l'allocazione complessiva delle risorse per le varie missioni. Allora, diciamo che la missione sicuramente rivolta alla digitalizzazione, all'innovazione, alla competitività, la cultura e il turismo ha un, come dire, un ammontare di risorse sicuramente molto importanti che è circa di 40 miliardi di euro. Insieme alla missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica, che ha un profondo di circa quasi 60 miliardi di euro, sono le due missioni dove graviteranno la maggior parte, come dire, delle risorse economiche, quasi più o meno il 50% delle risorse economiche destinate alle varie, come dire, alle varie missioni. La missione 3, rivolta all'infrastruttura per una mobilità sostenibile, ha uno stanziamento di circa 25 miliardi, l'istruzione e la ricerca circa 31, l'inclusione e la coesione, siamo su circa 20 miliardi di euro, la salute, poco più di 15 miliardi di euro. Questo per arrivare al complessivo dei famosi 191 miliardi, virgola 50. Come vi dicevo, le missioni hanno all'interno delle componenti. La, come dire, la missione 1 o la componente 2, che viene sintetizzata dalla sigla M1C2, è sicuramente quella molto rivolta al settore industriale, quindi, come dire, a tutto il mondo produttivo e sicuramente alle imprese che rappresentate. È la missione, quindi, della digitalizzazione, dell'innovazione e della competitività nel sistema produttivo. Circa 24 miliardi di euro. Qual è l'obiettivo di questa missione con la componente numero 2? È proprio quella di favorire la transizione digitale e l'innovazione del sistema produttivo, incentivando gli investimenti in tecnologie avanzate, in ricerca ed innovazione. Quindi, sicuramente, il primo obiettivo è molto tagliato, come dire, sul sistema produttivo, che cerca di stimolare quelli che sono, come dire, gli investimenti in tecnologie avanzate, sia in ricerca che anche in innovazione. Poi abbiamo tutta la parte relativa agli investimenti per le connessioni ultraveloci in fibra ottica 5G, rafforzare la partecipazione allo sviluppo dell'economia dello spazio e ai sistemi di osservazione della terra per il monitoraggio dei territori, e infine anche la promozione dello sviluppo e della competitività delle imprese italiane anche sui mercati internazionali. Quindi, devo dire che il primo e l'ultimo punto, sicuramente, sono due punti dove c'è un focus specifico per, come dire, l'internazionalizzazione e per l'innovazione e la ricerca, in particolare sistema produttivo e investimenti in tecnologie avanzate. Per quanto riguarda l'ambito di intervento di queste misure, l'investimento principale legato alla transizione 4.0 cuba circa 13 miliardi, per poco più di 13 miliardi. L'investimento numero due, investimenti ad alto contenuto tecnologico, circa, poco meno di circa mezzo miliardo, l'investimento 3, le reti ultraveloci, 6 miliardi e 71, scorrendo velocemente, l'investimento 4, tecnologie satellitari ed economia spaziale, un miliardo e mezzo, l'investimento numero 5, politiche industriali di filiera internazionalizzazione, circa due miliardi, e la rimanenza nella riforma del sistema, come dire, della proprietà industriale. Che cosa succederà? Succederà che tramite queste missioni, con le varie componenti, in funzione dei vari investimenti, ci sarà un riconoscimento di crediti di imposta alle imprese che investono in che cose? In beni capitali, in ricerca, sviluppo ed innovazione, in attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze. Quindi un focus sicuramente molto, molto interessante. Passiamo a vedere quella che è la misura specifica per i beni strumentali, il cosiddetto credito di imposta, che, come dire, è un aggiornamento, uno sviluppo del cosiddetto ex iper ammortamento. Allora, chi può beneficiare di questo credito di imposta in beni strumentali? Innanzitutto tutte le imprese che sono presenti sul territorio italiano, di qualsiasi forma giuridica e settore economico, e, indipendentemente, come dire, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito di impresa. I beneficiari possono anche essere esercenti, arti e professioni, residenti sempre nel territorio dello Stato e possono usufruire però del credito di imposta solo in riferimento ad investimenti effettuati su beni ordinari. I beneficiari devono però rispettare due condizioni. Due condizioni che oggi sono diventate, come dire, predominanti in tutte quelle che sono le misure che rientrano nelle agevolazioni pubbliche, nei contributi pubblici. Devono rispettare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e devono avere un DURC regolare. Per DURC regolare intendiamo che nel momento in cui l'azienda andrà a, come dire, beneficiare dell'agevolazione, deve presentarlo, deve presentare quindi un DURC regolare. Antecedente alla presentazione potrebbe avere un DURC che non è perfettamente in ordine, ha tempo per metterlo in ordine e presentare, come dire, le varie richieste di contributo. Sono escluse, invece, tutte quelle imprese in stato di liquidazione volontaria, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo senza la continuità, quindi, e le altre, come dire, procedure concorsuali. Queste sono tutte quelle situazioni in cui non mi permettono di poter richiedere, di usufruire, più che di richiedere, di usufruire del credito d'imposto in beni strumentali. Quali sono le attività che vengono amesse all'interno di questa agevolazione? Tutti i beni strumentali, che prevalentemente sono beni strumentali materiali-immateriali 4.0, che rispondono a degli allegati della legge 232 del 2016, piuttosto che dei beni strumentali materiali-ordinari e immateriali-ordinari. Questa è la novità della legge 178 del 2020. I beni innanzitutto devono essere nuovi, quindi non è ammissibile un bene usato. E i beni devono essere strumentali, cioè di uso durevole ed utilizzati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Vengono esclusi dall'agevolazione tutti i veicoli e i mezzi di trasporto, compresi gli autobus e gli autocarri, tutti quei beni che hanno un'alicota di ammortamento inferiore al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni. Andiamo a vedere quelle che sono, come dire, le quattro categorie, se così le vogliamo definire, di beni materiali e immateriali 4.0 e i beni materiali ordinari e immateriali ordinari. Allora, per quanto riguarda i cosiddetti beni materiali 4.0, che corrisponde all'allegato A della famosa legge 232 del 2016, questi beni devono essere funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale in ottica industria 4.0. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il funzionamento deve essere controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori e azionamento, devono essere, possono essere dei sistemi per l'assicurazione della qualità e la sostenibilità, possono essere dei dispositivi per l'integrazione luogomacchina e per il miglioramento della sicurezza, per esempio, del posto di lavoro in ottica 4.0. Facendo un esempio, possiamo considerare macchine per il confezionamento, macchine per l'imballaggio, macchine per la manifattura additiva, robot, quindi macchinari che sicuramente possono rientrare all'interno del processo produttivo. Per quanto riguarda invece i beni materiali 4.0 ai quali corrisponde il cosiddetto allegato B, sempre della legge 232 del 2016, rientrano i software, le piattaforme, i sistemi di integrazione e tutte le varie applicazioni. Come posso comprare il bene e avere diritto a utilizzare questa agevolazione? La modalità di acquisizione deve avvenire o tramite un acquisto a titolo di proprietà o tramite un leasing, in economia o in appalto. Queste sono le uniche quattro formule, definiamole così, per modalità più che formule, per l'acquisizione di questi beni strumentali. Ho un periodo temporale poi di riferimento che mi permette sostanzialmente di poter usufruire dell'agevolazione. Qui abbiamo indicato due periodi temporali proprio per dare indicazioni molto specifiche in quanto la normativa ha come dire un calendario specifico di riferimento. tutti gli investimenti che ho sostenuto dal 16-11 quindi dal 16 di novembre del 2020 quindi dall'anno scorso al 31-12 del 2021 possono rientrare e quindi usufruire del credito d'imposta però la normativa mi permette di allungare il periodo temporale di riferimento e viene proprio definito periodo lungo che scade a giugno 30 giugno del 2022 quindi dell'anno prossimo nel momento in cui io ho accettato e versato un acconto pari al 20% dell'investimento entro la fine di quest'anno quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che io posso aver comprato o meglio aver ordinato un macchinario nel 2021 l'importante è che questo macchinario se non viene consegnato entro la fine dell'anno possa essere consegnato entro la fine di giugno del 2022 con la condizione di versare un acconto invece entro la fine del 2021 tutti gli investimenti invece che effettuerò dal primo gennaio del 2022 termineranno come dire al 31-12 del 2022 ma avrò lo stesso concetto cioè la normativa mi dice se verso un acconto entro la fine di quest'anno ho tempo per terminare l'investimento quindi il cosiddetto periodo lungo il 30 giugno del 2023 quindi ho la possibilità sostanzialmente di andare a recuperare sugli investimenti già sostenuti un beneficio fiscale e posso pianificare invece i miei futuri investimenti quindi quelli che sosterò a partire dall'inizio del nuovo anno perché anche su tutti gli investimenti che inizierò a sostenere dal gennaio del 2022 posso come dire usufruire beneficiare di questo credito d'imposta vediamo una serie come dire di tecnicismi per rendere per scendere un po' più nello specifico e dare maggiori come dire indicazioni della normativa di riferimento quando è che si definisce il momento di effettuazione dell'investimento il momento di effettuazione dell'investimento viene rappresentato dalla data della consegna o della spedizione ovvero se diversa e successiva alla data in cui si verifica l'effetto traslativo costitutivo della proprietà o di altro diritto reale per quanto riguarda invece gli acquisti in leasing si rileva che cosa la data di consegne all'ocatario in particolare la data di sottoscrizione del verbale di collaudo e scendiamo per capire anche adesso su quelle che sono i benefici quindi le percentuali che questa normativa permette sostanzialmente di ricevere allora per tutti i beni strumentali materiali che rientrano nell'allegato a quindi stiamo parlando sostanzialmente di macchinari attrezzature e impianti per tutti gli investimenti sostenuti dal 16 novembre del 2020 al 31 di dicembre del 2021 ho diritto a un 50% sotto forma di credito d'imposta per investimenti fino a 2 milioni di euro l'anno prossimo quindi per gli investimenti che sosterrò dal primo gennaio del 2022 la percentuale si ridurrà al 40% sempre con un tetto massimo di 2 milioni e mezzo per investimenti invece che vanno dai 2 milioni e mezzo ai 10 milioni la percentuale è del 30% l'anno prossimo si ridurrà al 20% mentre per tutti gli investimenti superiore ai 10 milioni ma con un limite massimo di 20 milioni il beneficio sarà pari al 10% sia per gli investimenti relativi al periodo attuale sia anche per gli investimenti che sosterrò a partire dal primo gennaio del 2022 per quanto riguarda invece i beni materiali il famoso allegato B sempre sempre rientranti nel concetto di industria 4.0 quindi come vi ho detto prima i software per fare un esempio semplice ho diritto a un credito d'imposta pari al 20% per ogni investimento fino ad un milione di euro così per gli investimenti che sosterrò entro la fine di quest'anno e anche per gli investimenti futuri cioè quelli relativi a tutto il 2022 per quanto riguarda invece i beni materiali quelli generici anche qui ho delle percentuali differenti quindi sono tutti quelli che non rientrano nel concetto di industria 4.0 quindi per gli investimenti che ho sostenuto dal 16 di novembre del 2020 entro la fine di quest'anno io avrò un 10% di beneficio per investimenti ordinari 15% per beni funzionali allo smart working fino ad un massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni l'anno prossimo l'alicota sarà unica sia per gli investimenti ordinari anche per quelli come dire funzionali allo smart working e sarà pari al 6% sempre con un tetto massimo di 2 milioni per i beni invece in materiali generici quindi quelli in materiali comunque ordinari io ho un beneficio pari al 10% per beni in materiali generici e 15% per quelli funzionali allo smart working fino però ad un massimo di costi ammissibili pari ad un milione di euro l'anno prossimo la percentuale anche qui sarà unica e sarà pari al 6% per investimenti fino ad un milione di euro quindi con il credito di imposte in beni strumentali posso ottenere un beneficio fiscale importante molto importante direi per tutta la parte relativa ai beni che rientrano in ottica 4.0 perché stiamo parlando come vi ho fatto vedere dalla slide precedente che è questa qui di un investimento che parte da un 50% di beneficio e si può ridurre l'anno prossimo al 40% con un limite massimo di 2 milioni e mezzo per i beni materiali quindi per tutta la parte relativa ai software stiamo parlando di un 20% quindi sicuramente investimenti materiali immateriali in ottica 4.0 hanno sicuramente un'agevolazione fiscale estremamente importante come posso fruire di questo credito allora per i beni materiali immateriali 4.0 io avrò un beneficio che è pari sostanzialmente alle percentuali che vi ho indicato ma che sarà come dire fruibile in tre quote annuali di pari importo quindi per fare un esempio semplice se ho un beneficio fiscale di 300.000 euro io lo dividerò 100.000 euro per ogni anno a partire dall'anno di interconnessione del bene quindi interconnetto quest'anno un bene che mi permette di usufruire di un credito di imposte in beni strumentali pari al 50% quindi se sostengo un investimento da 600.000 euro quest'anno scusate avrò un beneficio pari a 300.000 euro quest'anno posso scontarmi i primi 100.000 euro l'anno prossimo i secondi e fra due anni la terza quota annuale pari a 100.000 euro che la parte rimane quindi ogni anno andrò a scontarmi a partire dall'anno di interconnessione del bene 100.000 euro di beneficio per quanto riguarda invece i beni materiali immateriali ordinari quindi quelli che danno come dire un beneficio fiscale sicuramente più basso la modalità di influzione è sempre in tre quote annuali di pari importo ma la novità del decreto sostegno bis mi dice una quota annuale a partire dall'entrata dall'anno scusate di entrata in funzione del bene solo per gli investimenti che sono effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre del 2021 l'anno prossimo quelli che sosterrò dall'anno prossimo quindi dal primo gennaio 2022 al 31 gennaio e al 31 dicembre 2022 li sconterò con tre quote annuali di pari importo quindi questa agevolazione come dire di fruizione in un'unica quota annuale è riferita solo ed esclusivamente agli investimenti che ho sostenuto dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 una parte relativa agli ordini documentali ci porta a comunicarvi che cosa che in fattura devono essere indicati i commi della legge di bilancio quindi nella fattura deve essere proprio indicato bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1 commi da 154 a 158 di cui all'articolo 1 della legge 178 del 2020 questo è proprio come dire un ulteriore tecnicismo che la che la normativa richiede con questa con questo riferimento direttamente sulla fattura poi ci sono come dire una serie di ulteriori caratteristiche che sono come dire legate sempre alle a questi a questi oneri documentali in quanto per tutti gli investimenti con un valore fino a 300.000 euro non è richiesta una perizia asseverata ma è possibile la dichiarazione del legale rappresentante per tutti i beni di valore superiore sempre relativo al costo unitario superiore a 300.000 euro è necessaria perché è la normativa che lo richiede una perizia asseverata che deve essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto ai rispettivi albi professionali oltretutto bisogna inviare anche una comunicazione al mese per soltanto per i beni in ottica 4.0 ai fini informativi in quanto come dire si deve comunicare al ministero dello sviluppo economico dell'utilizzo dell'agevolazione e credito di imposta beni strumentali raffronto fra le misure il credito di imposta anno 2020 e il credito di imposta anno 2021 diciamo che le differenze sostanziali sono l'arco temporale quindi tutto quello che ho sostenuto nell'esercizio fiscale 2020 è quello che sosterrò dal 16 novembre del 2020 alla fine del dicembre 2022 in quanto il primo credito di imposta rientra nella legge 160 del 2019 e per quanto riguarda il credito di imposta 2021 22 rientra nella legge 178 2020 questi sono proprio dei come dire dei tecnicismi normativi e i beni amessi sono i medesimi immateriali immateriali ordinari sul però su tutto quello che riguarda il credito di imposta 21 e 22 sono stati come dire contemplati anche gli immateriali ordinari anche qui abbiamo come dire rappresentato alcune caratteristiche distintive fra il credito di imposta anno 2020 e quello del 21 e 22 dove l'aliquota del credito si differenzia veniva differenziata in base alla tipologia di investimento mentre per l'anno 2021 e 22 si differenzia in base alla tipologia di investimento e anche al periodo stesso di investimento prima la fruizione veniva sempre fatta con il modulo F24 ma in 5 quota annuali e 3 per i beni immateriali dal 21 22 per il 21 e per il 22 viene portata a 3 quote annuali per il 2020 la fruizione era dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni mentre quell'attuale 21 e 22 è dall'anno di entrata in funzione dei beni e dall'interconnessione quindi praticamente la differenza è che prima dovevo aspettare un anno adesso posso come dire scontarmi subito il beneficio adempimenti documentali l'indicazione in fattura prima era richiesta una perizia tecnica semplice adesso viene richiesta una perizia tecnica severa queste sono come dire alcune differenze come dire definiamole sostanziali però sono piccole differenze fra il credito di imposta anno 2020 e quello relativo al 21 e il 22 ricordiamo anche che per gli anni 18 e 19 è comunque utilizzabile sia il super ammortamento che l'iper ammortamento quindi il credito di imposta in beni strumentali non è altro che un'evoluzione della precedente normativa iper ammortamento che mi dava la possibilità di maggiorare fino al 170 per cento il costo di acquisizione dei beni materiali e materiali 4.0 quindi come dire è diventata una misura strutturale è partita nel 2018 e sta come dire con il passare degli anni subendo una serie di modifiche devo dire però una serie di modifiche che possono portare ad un beneficio immediato per le imprese che hanno diritto all'utilizzo dell'agevolazione andiamo a vedere adesso invece la normativa del credito d'imposta in ricerca e sviluppo innovazione design che è sicuramente una normativa come dire presente da molti anni quindi molto probabilmente è una normativa più conosciuta rispetto al credito d'imposta in beni strumentali le novità del credito d'imposta in ricerca e sviluppo riguarda innanzitutto la durata temporale perché è stata prorogata fino alla fine dell'esercizio fiscale 2022 e presenta delle nuove aliquote giusto per una precisazione questa normativa è nata nel 2015 quindi il credito d'imposta in ricerca e sviluppo nascendo nel 2015 diciamo che sono già sei esercizi fiscali durante i quali posso o ho potuto utilizzare la normativa e posso perché ho ancora diritto all'utilizzo e a beneficiare di questa agevolazione tornando indietro quindi con un effetto retroattivo fino però all'esercizio fiscale 2016 dall'anno prossimo fino all'esercizio fiscale 2017 quindi anche il credito d'imposta di ricerca e sviluppo è diventata come dire una misura strutturale sicuramente anche lei ha subito delle variazioni nel corso degli anni una variazione importante è proprio quella di nuove aliquote di beneficio per le imprese i beneficiari rimangono sempre tutte le aziende presenti sul territorio italiano di qualsiasi forma giuridica e settore economico indipendentemente dalla dimensione del regime di determinazione del reddito d'impresa i beneficiari anche qui devono rispettare di questi due punti come vi dicevo prima sono diventate delle condizioni che vengono un po' applicate su tutto il mondo dei contributi e delle agevolazioni pubbliche ciò significa che le imprese devono rispettare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e devono presentare un gruppo regolare restano escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria fallimento liquidazione quota amministrativa concordato preventivo senza continuità aziendale e tutte le altre procedure consensuali quindi come erano escluse dal credito d'imposta in beni strumentali sono escluse anche dal credito d'imposta ricerca e sviluppo che cosa sono ammesse all'interno di questa agevolazione tutte le attività pertinenti alla ricerca e sviluppo che si dividono in ricerca fondamentale ricerca industriale e ricerca sperimentale innovazione tecnologica e design adesso ne andiamo come dire ad analizzare singolarmente per capire che cosa si intende per ricerca fondamentale per ricerca industriale e per sviluppo sperimentale stessa cosa per innovazione tecnologica e design partiamo dalla ricerca fondamentale che cosa è una che cosa si intende per ricerca fondamentale all'interno diciamo di questo concetto rientrano i lavori sperimentali o teorici senza che siano previste applicazioni commerciali dirette nel decreto del mese del 26 maggio del 2020 viene specificato che il risultato della ricerca fondamentale deve essere rappresentato di norma per mezzo o di teorie interpretative o di schemi di diagrammi la ricerca industriale invece è una ricerca pianificata con indagini di critiche al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze che derivano da un'attività di ricerca fondamentale per esempio o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo di un obiettivo pratico predeterminato il risultato di questa ricerca industriale deve essere rappresentato però con un modello di prova che permetta una verifica sperimentale delle ipotesi di partenza lo sviluppo sperimentale invece sono proprio i lavori sistematici che vengono che si basano sostanzialmente sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica svolti allo scopo di acquisire come dire ulteriori conoscenze e raccogliere ulteriori informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti per miglioramento significativo di processi o di prodotti già esistenti che cosa si intende si intendono tutte quelle modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono riconducibili ad un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento per innovazione tecnologica invece intendiamo la realizzazione di prodotti o di processi di produzione nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già utilizzati e realizzati all'interno dell'azienda stessa e l'innovazione l'innovazione tecnologica si divide in innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica che cosa vuol dire innovazione digitale 4.0 sono tutti quei lavori che vengono svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso per esempio l'integrazione e l'interconnessione dei fattori interni ed esteni all'azienda rilevanti per la creazione di valore la transizione ecologica invece sono tutti quei lavori che vengono svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi per esempio dell'economia circolare così come declinati nella comunicazione della comunità europea 98 dell'11 marzo del 2020 per quanto riguarda invece il design e la ideazione estetica il credito di imposta premia che cosa lo sforzo innovativo dell'imprenditore per la concezione e la realizzazione di nuove collezioni di nuovi campionari che presentino però sempre degli elementi di novità rispetto a quelli come dire precedenti gli elementi di novità devono riguardare che cosa i tessuti e i materiali la loro combinazione i disegni le forme ed i colori non è amessa la semplice modifica di un colore o di un dettaglio perché quello non rappresenta come dire un elemento di novità vediamo quelle che possono essere le spese che sono contemplate quindi da questo credito di imposta di ricerca e sviluppo sono ammesse tutte le spese del personale interno quindi dei dipendenti delle aziende che partecipano che sono come dire parte integranti di questa attività di ricerca e sviluppo le quote di ammortamento per beni materiali software privati e industriali solo pertinenti alla ricerca e sviluppo i contratti di ricerca e di innovazione i servizi di consulenza quindi tutto il mondo come dire della ricerca demandata ad un ente esterno ad un laboratorio di ricerca ad un'università ad un consulente sempre pertinente comunque ad attività di ricerca e sviluppo e infine anche i materiali e le forniture quali sono anche per il credito di imposta le agevolazioni come dire di cui possono poi beneficiare le aziende allora passerei a questa slide perché ve le riassume insieme sia quelle relative all'esercizio fiscale 2020 sia quelle relative all'esercizio fiscale 2021 e 2022 perché il credito d'imposta il nuovo credito d'imposta copre questi tre esercizi fiscali l'anno 2020 quello terminato il 2021 quello che sta terminando e il nuovo anno il 2022 quello che verrà partiamo dal credito dal credito d'imposta per l'anno 2020 quello appena chiudo ci sono delle alicote che come dire vengono che si differenziano per la tipologia delle spese ammissibili per tutta la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale la liquida è pari al 12% con un importo massimo di 3 milioni il nuovo credito quindi per l'esercizio 21 e 22 porterà questa liquida al 20% quindi abbiamo un incremento di 8 punti percentuali con un massimale di 4 milioni l'innovazione tecnologica passa dal 6% per l'esercizio 2020 al 10% per il 2021 e 22 con un massimale come dire di 2 milioni 1 milione e mezzo l'anno scorso 2 milioni per quest'anno e anche per il 2021 l'innovazione green e digitale passa dal 10% del 2020 al 15% per il 2021 e 22 e anche in questo caso c'è un incremento del massimale da un milione e mezzo a 2 milioni il design e l'ideazione estetica passa dal 6% al 10% anche in questo caso aumenta al massimale da un milione e mezzo a 2 milioni quindi diciamo che la base di partenza dei costi pertinenti ad attività di ricerca e sviluppo complessivi è il 10% che può aumentare fino al 20 se questi costi saranno imputati alla ricerca industriale piuttosto che allo sviluppo sperimentale quindi c'è stato sicuramente un incremento percentuale rispetto al 2020 anche in questo caso sono richieste una serie di oneri documentali fra i quali una relazione tecnica che illustri le finalità e i contenuti e i risultati dell'attività di ricerca una certificazione dei costi e una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico anche se ancora non sono definite bene le modalità di comunicazione al quale verrà indicato o meglio comunicato che l'azienda ha utilizzato il credito di imposta in ricerca e sviluppo l'agevolazione si può come dire utilizzare esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo dal periodo successivo a quello di maturazione che cosa vuol dire che per il 2020 quest'anno mi andrò a scontare un terzo del beneficio l'anno prossimo un altro terzo e nel 2022 l'ultimo terzo comunque dall'anno successivo a quello di maturazione del beneficio possibilità di recuperare i costi anche per le annualità precedenti con all'inco dei meccanismi di calcolo e tipologia di costi diversi era quello che vi stavo dicendo la normativa del credito di imposta nasce nel 2015 quindi essendo diventata una normativa come dire strutturale ha subito delle variazioni dal 2015 per gli esercizi fiscali 2015 fino all'esercizio fiscale 2019 come dire la modalità di calcolo e di fruizione è completamente diversa rispetto al come dire all'attuale credito di imposta ricerca e sviluppo ma eventualmente rimanderei come dire la spiegazione di questa di questo precedente credito di imposta che è sicuramente differente dall'attuale ed eventualmente chi avesse necessità può tranquillamente contattarci per richiedere informazioni informazioni in merito chiudiamo con la nuova Sabatini che è sicuramente una normativa molto conosciuta ormai dagli imprenditori italiani perché anche questa è diventata come dire una normativa strutturale che cosa succede succede che per per la Sabatini è stato come dire sono stati stanziati ulteriori 300 milioni di euro in seguito alle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato quindi c'è la possibilità di ancora di usufruire di questa agevolazione che ribadesco se la stiamo portando avanti da tanti anni e possono beneficiare di questa agevolazione le micro e le piccole e le medie quindi facciamo attenzione che in questo caso le grandi imprese non possono non possono beneficiarne devono avere sempre una sede operativa in Italia le cosiddette PMI regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e sono escluse in questo caso tutte le imprese in difficoltà tutte le imprese che esercono attività finanziarie e assicurative e imprese che eserci un'attività connessa all'esportazione e per gli interventi come dire subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione le attività ammissibili quindi che cosa posso far finanziare tramite la nuova Sabatini la creazione di un nuovo stabilimento l'ampliamento di uno stabilimento esistente la diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi la trasformazione di un processo produttivo l'acquisizione di attivi di uno stabilimento quindi voglio dire posso far rientrare molti investimenti prevalentemente produttivi e non proprio per avere come dire la possibilità di finanziare la maggior parte delle spese che sostengo l'investimento deve essere successivo alla presentazione della domanda e si deve concludere entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento l'importo minimo per poter usufruire di questa di questa agevolazione deve corrispondere l'investimento ad almeno 20.000 euro quindi per valori inferiori non è possibile applicarla le spese relative all'acquisto anche mediante l'occasione finanziaria possiamo far rientrare i macchinari gli impianti i beni strumentali d'impresa le attrezzature nuove ad uso produttivo tecnologie digitali questi beni devono essere sicuramente nuovi non possono essere come dire agevolabili i beni usati o rigenerati devono essere classificabili come immobilizzazioni nello stato dell'attivo patrimoniale devono essere strumentali alle attività esercitate ubicati presso l'unità produttiva dell'impresa l'agevolazione in che cosa consiste è un contributo in conti impianti che viene erogato in un'unica soluzione pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento della durata di 5 anni valore massimo complessivo di 4 milioni ad un tasso di interesse pari al che andiamo da un 5,5% ad un tasso sicuramente più ridotto che è pari al 2,75% per le varie tipologie di investimento che potete sicuramente vedere nella tabella legata la domanda di agevolazione deve essere presentata alla banca o intermediario finanziario che deve essere a sua volta convenzionato con il ministero dello sviluppo economico la banca o l'intermediario finanziario previa una verifica della documentazione presentata trasmette al ministero la richiesta di prenotazione delle risorse relativa al contributo il ministero entro 5 giorni comunica la disponibilità o meno delle risorse in caso di disponibilità la banca a questo punto delibera il finanziamento il ministero ricevuto l'elenco dei finanziamenti deliberati adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni lo trasmette all'impresa e alla banca intermediario finanziario ricevuto quindi il provvedimento di concessione l'impresa beneficiaria stipula con la banca finanziario il contratto di finanziamento quindi la domanda parte comunque dalla presentazione presso l'istituto di credito che ricordo deve essere convenzionato ringrazio a tutti dell'attenzione a questo punto sono a disposizione per chiarimenti e ripasso la parola a Luca Boltri per gli approfondimenti del caso grazie mille dottor Ciacciarelli direi comunque una presentazione molto completa e articolata su questi su questi strumenti quindi la ringrazio ancora a nome dell'associazione ecco se qualcuno vuole porre delle domande lo può fare appunto attraverso il il bottone al centro della maschera aspettiamo magari un paio di minuti per vedere se qualcuno può ha qualche necessità di chiarimento noi avevamo intenzione di rimanere comunque attorno all'ora di di durata direi che ce l'abbiamo fatta egregiamente adesso ecco dottor Ciacciarelli chiedono se sono ammissibili le spese per l'acquisto di carrelli allora per l'acquisto di carrelli bisogna capire questi carrelli adesso così è molto generica e questi carrelli se sono non so mi viene l'esempio di un muletto non so se è il concetto del muletto carrelli carrelli elevatori carrelli elevatori questi carrelli elevatori se sono all'interno per esempio di un magazzino automatizzato potrebbero sicuramente rientrare adesso poi bisogna fare tutta una serie di approfondimenti tecnici sul macchinario sulle caratteristiche tecniche del macchinario capire se questi carrelli elevatori come dire sono automatizzati sono indipendenti sono all'interno di un magazzino automatico però volendo potrebbero potrebbero rientrare perfetto vediamo sicuramente il carrello elevatore potrebbe rientrare potrebbe essere finanziato con una sabatini e poi capire se c'è la possibilità di utilizzare il credito di imposte in beni strumentali o in ottica 4.0 altrimenti non in ottica 4.0 vediamo se ci sono altre domande intanto la persona che aveva posto la precedente domanda la ringrazia non vedendo altre domande io dottore visto che siamo rimasti perfettamente nell'ora che ci eravamo prefissati la ringrazierei e la saluterei con l'impegno chiedono se è possibile ricevere la presentazione la possiamo condividere oppure magari diamo il suo contatto come volete se ci volete fornire i contatti inviamo la presentazione a tutti come ritenete più va bene allora adesso magari vediamo comunque da parte nostra c'è disponibilità a condividere le slide assolutamente va bene se non c'è se non c'è altro allora io la ringrazio ancora ringrazio tutti i partecipanti e se ci dovessero essere insomma io lo ribadisco dubbi o necessità di ulteriori informazioni di chiarimenti mandateci pure una mail mi dicono c'è scritto che c'è un refuso sulla slide del credito d'imposta potrebbe essere dottor Ciacerelli credito d'imposta beni strumentali o ricerche e sviluppo questa è una bella domanda questa è una bella domanda vediamo se chi ha fatto la domanda ce lo specifica beni strumentali se ci dicono qual è che cosa intendono per refuso riusciamo vediamo riusciamo ad essere di aiuto possiamo anche scorrere velocemente vediamo un po' non so cosa intendono vediamo se chi ha posto la segnalazione eh sì eh il refuso è che non è dal primo dicembre duemila ah sì 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 hanno ragione è dal primo gennaio del duemila e ventidue sì sì c'è proprio un errore di battitura certo sì assolutamente perfetto sarebbe troppo breve il periodo allora io è dal primo gennaio duemila e ventidue al trentuno dicembre duemila e ventidue perfetto allora io ringrazio pubblicamente il dottor Marone che ci conosciamo per questa segnalazione e niente se non ci sono altre 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 domande eh io la ringrazio ancora ringrazio tutti i partecipanti e auguro una buona serata e ci vediamo eh al prossimo webinar grazie mille grazie a tutti voi buona serata arrivederci arrivederci